Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video di X EMAX 11 Oggi vedremo dove trovare le restanti monete d'oro di questa stagione 4 capitolo 2 di Fortnite Intanto mettiamo Thor con la sua stile argentato Eccolo qua, Thor, perfetto Cambiamo il dorso decorativo, mettiamo il mantello in stile, perfetto Ora cambieremo il piccone e metteremo, perfetto Cambiamo il deltaplano Eccolo qua Siamo pronti, si parte, let's go Seconda moneta la potremo trovare alla Stark Industries, come ho detto poc' anzi Let's go Speriamo di poter arrivare a colpo sicuro Al punto dove trovare questa seconda moneta di questo secondo capitolo della quarta stagione di Fortnite La seconda moneta la potremo trovare qui Passiamo da questa porta Spacchiamo questo ascensore E qua troveremo la seconda moneta Ora vi mostrerò dove si trova la terza moneta La terza moneta di Fortnite la potremmo trovare qui Appena arriviamo, ping, il punto preciso Ciao Ciao Sì 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 La terza moneta la potremmo trovare qui Dentro a questo bus dove si dice che sia arrivato Wolverine in Fortnite La quarta moneta toro invece la potremmo trovare qui Ora vi porto nel punto preciso Nella mappa intanto è questo Qui potremmo trovare come ho detto prima la quarta moneta In questa casetta Appena entriamo E si troverà precisamente qua sotto Da me non si vede perché già l'ho presa La quinta moneta invece la troveremo al dominio del Doctor Doom Precisamente qui Entriamo da questa porta Spaccheremo questa parte Del suolo E qua troviamo la quinta moneta d'oro Con questa saranno 75.000 punti presi solo grazie a queste cinque monete E se vi è piaciuto il video e volete sapere altre news su Fortnite Vi invito a mettere mi piace Iscrivervi al canale e condividere il video con i vostri amici Ci rivediamo ad un prossimo video Grazie a tutti